Due consigli comunali di particolare importanza nell'arco di 72 ore la prossima settimana. L'Aula Pucci ospiterà lunedì e mercoledì prossimi due sedute che hanno all'ordine del giorno argomenti di spessore. Si dovranno discutere e approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2023-2025 propedeutica all'approvazione del bilancio. All'ordine del giorno anche la discussione e l'approvazione della delibera riguardante l'accordo procedimentale fra il Comune, l'Autorità Portuale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che era stato presentato l'11 gennaio scorso alla presenza del Ministro Salvini. Si tratta dell'intesa che grazie ai fondi del PNRR consentirà al Porto di acquisire l'area della ex centrale di Fiumaretta e a Palazzo del Pincio di poter intervenire sull'area ex Italcementi. Al riguardo il Consiglio dovrà discutere anche la proposta di perimetrazione dell'ambito di rigenerazione urbana dell'area e approvare lo schema di convenzione attuativa. La seduta di mercoledì 22 marzo invece interamente dedicata alla discussione e all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025, della nota integrativa del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Si tratta tradizionalmente del Consiglio Comunale più importante di ogni anno che rappresenta da sempre anche un test sullo stato di salute dell'amministrazione comunale che lo porta in approvazione e anche in questa circostanza l'attesa è tanta considerando gli ennesimi movimenti che si annunciano all'interno del Governo cittadino.